Ciao ragazzi, ciao ragazzi, come avete visto dal titolo parliamo un poco di questa azienda allora i prodotti mi dovrebbero arrivare inizio settembre allora questa è un'azienda che si occupa solo di detersivi io la stavo cercando da un sacco di tempo, veramente avrei preferito un'azienda tutta insieme però vediamo un poco, quindi vediamo, proviamo allora questa qua si chiama Archimede Fibra, è uscita da poco vi faccio vedere un poco, vedete il sito, perché non tengo ancora i cataloghi, poi farò lo spacchettamento così mi dite pure che cosa ne pensate, che io ho la fissa del detersivo allora vediamo, accessori allora qua ci sono tutti gli accessori, questi che state vedendo sono i prezzi proprio al di catalogo la consulente ha il 20%, le provisioni della consulente aumentano quando fai struttura in poche parole aumenta sempre di più la provvigione invece la vendita è il 20%, solo vendita vabbè qua ci sono tutte le spugnette, tutti gli accessori andiamo a vedere, allora bucato perché non voglio fare il video troppo troppo lungo allora, questi sono i prezzi da catalogo dovete mettere sempre il 20% naturalmente come vi dicevo prima, se fate poi anche la struttura costa sempre più poco quindi allora ci sono per esempio, vedete vari prodotti che magari sotto ci sono le schede ammorbidenti, profumo per il bucato magari poi uno approfondisce io ora vi voglio vedere solo su per giù il sito poi abbiamo per esempio queste per le scarpe poi ci sono anche dei prodotti per il corpo tipo le spugne infatti queste qui per il bagno poi ci sono per esempio, vedete qua il salvatacchi poi per esempio, vedete questi sono i medium quelli più grandi nuvoletta soletta in memory e ci sono, vedete per esempio anche le asciugamani in microfibra vedete e costano 4,99 ricordatevi che dovete mettere sempre il vostro 20% pure a me mi piace tantissimo vi dico la verità poi da come dicono le persone che già hanno usato i prodotti si stanno trovando bene allora questo per esempio è un turbante in microfibra andiamo avanti ok non pensavo che allora poi abbiamo a cucina non voglio fare ragazze il video lungo lungo allora questo qui il pelatutto sta andando a ruba questo pelatutto mamma mia esagerato questo è l'elsa piatti limone vedete ed è un litro 1,99 col 20% ricordatevi sempre ma naturalmente il 20% per esempio sono molto curiosa di questi salvagoccia perché io metto non avete idea già abbiamo cambiato due come si chiamano quei cosi di legno io ho il legno non ho l'acciaio e quindi l'acqua quando andate a scolare le cose tutte le cose che metto lì si rovina sempre il legno vediamo devo provare questi qua come sono se no poi prendo proprio il tappetino poi ci sono i panni dei panni sono proprio ragazze curiosissime perché voi non avete idea i panni i panni spugnette che io consumo vedete questi sono gli antigraffio per il lavarello il panno Stovi questo asciuga tutte le posate andiamo a vedere questa è la parte più interessante il panno Inox per l'acciaio le spugnette tutte e tre grandi abrasive il colino poi ci sono queste spugnette multicolor la spugnetta Inox questa sono proprio curiosa perché io le distruggo le butto in niente questo è il Sanity Plus dei prodotti quindi poi vi parlerò più approfonditamente questi sono dei coperchi in silicone che puoi coprire qualsiasi cosa la grattugia multiuso le spatole in silicone poi questa è una borraccia con il filtro questa è la fetta anguria le bustine trasparenti in silicone che puoi fare tutto qua dentro la fetta come si chiama la fetta perfetta che taglia le buste in silicone medium come si chiama quello lì per fare le aranciate la formina dell'uovo sodo Elsa piatti questo è piccolino però alla mandorla per i piatti teniamo un sacco di prodotti la raschietta perfumbo di vasetti poi questo è troppo carino ragazzi questo infatti me lo può ripigliare perché a me si appila sempre io ho questo fatto di lavello quindi voi sarei sempre a tenda con questo lavello non lo so se me lo prendo nel primo ordine forse più avanti questo qua poi ci sta il tritatutto che peccato ragazzi io l'avevo comprato da poco però io ho comprato quello lì elettronico cioè che faccio tutto questo qui invece era manuale poi le buste sempre in silicone che possiamo fare qualsiasi cosa le formine l'infusore per il tè le buste di silicone sempre il colino salva spazio questo pure è caruccio e questa è una specie di robot 6 in 1 troppo carino questo io dove l'ho detto ho preso quello lì non manuale che dove si fa tutto 22,99 è carino perché è carino proprio poi ci sono questi chiudipacco poi ci sono questi qua i contenitori io li avevo presi da amazon e vi dico un altro poco l'ho pagato pure di più quelle che ho preso io da amazon quindi l'avevo pagato pure di più un altro poco tutto il set poi questi sono altri contenitori vedete questi contenitori qua per la pasta le decorazioni per i dolci poi questi sono tutti i contenitori sempre i contenitori questo è il tappo per il vino ecco il tappeto abbiamo anche i tappeti per il tappeto al silicone da mettere nel forno e ci sono varie misure ecco qua lo scola stoviglie io voglio provare prima il salvagoccia se vedo che comunque con il salvagoccia non mi trovo e comunque non dura chissà quanto vado a provare questo mi ricordo che io avevo preso quello ragazzo della Faberlic è durato un mese e l'ho dovuto buttare perché non si puliva le macchie non si toglievano comunque dopo un mese quello di Faberlic lo paghavo addirittura 10 euro lo dovetti buttare invece questo costa molto più poco vi faccio vedere ecco costa 7 euro più il 20% costa molto più poco vi farò sapere poi se lo prendo se mi sono trovata meglio di quello lì della Faberlic quello della Faberlic un mese lo dovuto buttare perché non si toglievano le macchie non si lavava l'ho messo da tutte le parti lavatrice a mano non si puliva e si era fatto tutto brutto queste sono le presine troppo carine questi sono i contenitori termici il pennello in silicone e basta andiamo avanti aspettate si mi pare che era la cucina questa che vi ho fatto vedere ora non mi ricordo più detergenza allora allora ragazze io di questi due prodotti sono troppo troppo curiosa il lucidissimo e il più lucido allora questi prodotti sono andate a ruba cioè sono troppo belli perché ragazze che sono facendo i video io non vedo l'ora di fare per esempio col più lucido la scala mia di casa e questo costa 3,90 questo è lucido ricordatevi guardate un litro e mezzo vedete anche le ml dei prodotti ricordatevi come la cosmetica dovete vedere anche a livello di detersivo per esempio il lucidissimo di un litro e mezzo questo dovrebbe essere forse un litro non mi ricordo se non pure questo di un litro e mezzo questo qui è il ripristinatore il ripristinatore per esempio io sono curiosa perché devo fare le porte di legno si possono fare 40.000 cose con questo potete pulire veramente l'impossibile ci sta anche quello liquido questo è il super clean questo è il pulifughe ragazzi vi ricordate che ho fatto un video dove vi ho fatto vedere che avevo scoperto non sapevo che l'aceto di alcol potesse pulire le fughe ma io mi sono fissata ho detto oddio ho scambiato il marmo speriamo che non ho scambiato il marmo perché non lo so perché io vedo le mattonelle più bianche e invece io la mia mattonella è rosa rosa pallida quindi speriamo che non l'ho scambiato infatti non l'ho fatto più voi e quindi questo qui lo provo lo voglio vedere perché lo proviamo insieme per vedere le fughe perché quelle ragazze pure una mia amica Teresa ciao Teresa mi ha detto quando tu devi pulire il marmo devi stare attenta perché ognuno di noi ha un marmo diverso e ci sono dei prodotti appositi per il marmo e quindi speriamo che non l'ho scambiato allora questo è per i pavimenti si chiama bluforro vedete com'è bello poi abbiamo il delact quest'altro qui abbiamo questo allora questo io lo voglio pigliare perché sono fissata che io sono allergica in tutto quindi per il bucato ed ecologico questo è il ripristinatore quello che vi avevo detto liquido che voi lo spruzzate e pulite tutti i mobili dice che la polvere non si fa è una cosa esagerata sui mobili sui mobili invece questo quello lì ha crema è più denso hanno due cose diverse allora poi il water floor è per i pavimenti se non mi sbaglio pure questo sì il lemon frisk è per i pavimenti tutto questi qui per i pavimenti io li proverò piano piano perché tengo la fissa io per i pavimenti poi questo qui è per il vetro e per i vetri però anche con il lucidissimo si possono fare i vetri il lucidissimo non è solo per i pavimenti come se ti lucida il pavimento si possono fare i vetri ragazzi poi si possono fare un sacco di cose quindi se per esempio io posso fare i vetri anche con il lucidissimo per esempio puoi fare a meno di comprare quello per lo specchio però questo qui è per gli specchi capito vetro specchio quindi poi si sta l'antimuffa il brill i supermobili c'è questo che oltre il rubrisinatore è per i mobili si stanno un sacco di prodotti ragazzi il multisan l'anticalcare magicclean vedete i prezzi ricordatevi il 20% alla venditrice il deosan poi vedete come sono grandi sono tutti quanti quello più piccolino di 750 ml voi dovete vedere quanto è grande questo qui sono molto ma molto curiosa di questo grassatore ed ecologico vedete che io sono fissata con questo fatto nei prodotti poi c'è la mela questo è troppo bello ragazzi devo vedere pure questo qui questo mi sembra per i piatti poi questo qui il clean heart il stop questo altro io ora tutti quanti non lo so poi per esempio questo qui sono molto curiosa l'igienizzante che io tengo questa fissa vi avevo fatto vedere che tenevo l'igienizzante quello lì chirurgico questo è profumo di cedro deve essere molto buono questo qui poi ci sono gli igienizzanti per la mano vedete tre pezzi due euro e venti buonissimo nemmeno nel negozio e tenete presente qua dovete mettere il vostro sconto io lo vado a pagare di più quando vado a pigliarmi l'igienizzante questo è il cromo clean questo sarà per i pezzi della cucina interessante poi questo qui cromo clean quest'altro qui è l'igienizzante mani tipo sapone poi questo l'abbiamo visto già profumazione allora queste sono allora fiori di loto ammorbidenti viola e lavanda allora andiamo a vedere sì poi il deo cristal questi sono dei cristalli che si mettono o nell'aspirapolvere oppure per esempio fai un sacchetto li metti nel sacchetto della pattumiera così profumano puoi fare i sacchettini nei cassetti sono una specie di deodoranti e dicono che sono bellissimi poi questo qui simond set allora tutti questi qui ragazzi giustamente ce ne sono troppi piano piano ve li faccio vedere poi questo è un altro profumatore questo qui all'aloe mi ispira un sacco vediamo quest'altro per far capire questa linea che cos'è vedete ci sono le schede ah sono dei profumatori ragazze per ambienti tutto a posto quindi figurati o li amo i profumatori per ambienti non me ne ero nemmeno accorta ci sono una marea una marea di prodotti in questa azienda e poi ragazze è solo detersivo allora questi vedete sono delle essenze vedete il profumatore per ambienti il diffusore vedete e poi abbiamo anche la cosa più bella ragazze le candele tutte a base di come si chiama ecco qua vedete le candele sono fatte sono vegetali vedete sono di altissima qualità non ce ne tengono le paraffine dentro vediamo subito andiamo a aprire una scheda così ve la faccio vedere ecco qua candele vegetali vedete tutte vegetali non ci hanno vedete ci hanno come si dice non tengono paraffina non tengono niente perché vedi senza parassine sostanze chimiche completamente ecologiche e vegetali perché se no io con la paraffina non mi posso prendere mi danno fastidio la gola allora andiamo a vedere dopo le candele mi sembra che non ci stava più niente ecco qua ok pubblicità allora questa qua vabbè qua ci sono i cataloghi vedete per esempio un chilo di buste 2 euro e 50 poi ci sono 3 pezzi di cataloghi il catalogo è enorme ragazzi 5 euro quindi loro ti fanno gli sconti allora nell'archimede come funziona bisogna pagare un kit in questo kit però voi per esempio l'azienda vi faccio vedere poi quando mi arriva il pacco a me dovete pagare solo 10 euro dove vi dà una specie vi dà due cataloghi le penne come si chiamano come si chiama qua vi dà una specie di cose i blocnotes dove voi prendete questo kit vi regala 20 euro di prodotti regalati quindi come se voi avete 10 euro di prodotti regalati in poche parole perché sono 4 prodotti però per l'iscrizione diciamo per il benvenuto dovete pagare il kit di benvenuto in poche parole però in questo kit di benvenuto vi regalano questi 4 prodotti poi chi è interessato mi dovete scrivere giù scrivetemi sulla pagina facebook ragazzi poi che ci sa più la pulizia e poi ci abbiamo i tappeti ah vedete ci sono la spugna magica questi sono troppo curiosa mamma mia sono curiosissima il panno di carbonio queste salviezzine igienizzanti il motion non avete idea di quanti ne compro tutti questi strofinacci che sono troppo curiosa come al solito mi sto dilungando la scopa in silicone è troppo bella il panno duplefac le mollette antivento il vetobrill vedete tutti i panni tutti questi panni la soletta antilucido per il ferro il portabiancheria il panno anticalcare le ricariche queste ricariche che tiene questi panni e il pane noaltan alcantara niente ragazze poi ci sono i tappeti perché vende anche i tappeti vedete tutti i tappeti e niente ragazze e questo è il sito se siete interessati che volete sapere come funziona contattatemi sulla mia pagina facebook se non viene troppo lungo e non vedete il video ciao ragazze fatemi sapere che cosa ne pensate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti